salve ragazzi benvenuti di nuovo al lion bull academy oggi facciamo spieghiamo velocemente cos'è l'indicatore di william l'oscillatore è una strategia facile da utilizzare non c'è molto da spiegare su questo oscillatore è l'unico è tutto quello che al di sopra del 20 che potete vedere in questo disegno qua al di sopra del 20 e sopra comprato sarebbe che è un troppo comprato e tutto quello che al di sotto degli 80 e che già troppo venduto ok allora come potiamo utilizzare questo indicatore al nostro vantaggio già sappiamo cosa fa in generale normalmente io lo utilizzo per chiudere operazioni quando non mi interessano più di mantenerle mi fa vedere quando il miglior momento di chiudere l'operazione adesso vi faccio vedere una strategia molto molto semplice che la utilizzo sia in itoro come in altri broker che usano azioni utilizzazioni e questa volta sì che utilizzo la leva perché sono operazioni molto corte in un time frame di cinque minuti e allora avendo un po di leva almeno x2 già sarebbe buono x5 meglio però fate per adesso x2 all'inizio e vi consiglio di farlo in demo e provare almeno 100 operazioni per vedere se vi funzionano la strategia c'è un ratio di vincita di attorno al 68 per cento perciò c'è un bel ratio di vincita e perdita e normalmente ci basiamo nel william per chiudere possiamo mettere lo stop loss tanto per sicurezza però ci basiamo anche nel william per chiuderlo dai andiamo a vederlo prima di tutto vediamo in itoro come si mettono l'indicatore adesso sono attualmente in wealth fargo io schiaccio su indicatori il primo è il canale di che come si dice aspetta che nel channel sarebbe il canale di keltner lo mettiamo possiamo possiamo scegliere sopra verde al mezzo blu e sotto rosso va bene lasciate così com'è non toccata niente periodo 50 shift 5 e lo creiamo che ce l'abbiamo già pronto il nostro indicatore adesso mettiamo il nostro indicatore di williams andiamo studi 2 l'ultimo di tutti e il williams lo mettiamo sopra verde così sappiamo che sopra comprato sarebbe troppo comprato e sotto rosso e così ce l'abbiamo già creato i nostri indicatori sono già messi qua già possiamo vedere che ci sono per esempio in wealth fargo ci sono avute due operazioni e questa come funziona questa questa strategia io faccio solo compre già ve lo dico sono compre solleva x2 potete anche usare x5 però per adesso non lo consiglio anche come il mercato funziona che prima di tutto la candela la candela deve essere deve essere verde e chiudere al di sopra del la il canale di keltner una volta chiusa allora noi faremo una compra e chiuderemo la nostra operazione quando l'indicatore di williams scende al di sotto del livello di 20 adesso potete vedere il livello questo è quello di 20 qua ci fa vedere che l'operazione l'abbiamo aperta esattamente in questa in questa candela qua l'abbiamo aperta e la chiuderemo quando l'indicatore scende che sarebbe in questo posto di qua e sta anche rientrando nel canale perciò questa sarebbe la chiusura e ci avremo fatto un paio di più ci avremo altre operazioni che ce l'ha fatta vedere per esempio abbiamo quest'altra qua aprite qua e chiuderemo quando scende giù questa è un'operazione che ci avrebbe dato perdita però anche fatta bene questa è un'altra e la chiuderemo quando scenderebbe più o meno in questo livello perciò questa sarebbe stata chiusa in break even poi ce ne abbiamo un'altra in questa zona di qua potete vedere avremo aperto in questa candela qua e l'avremo chiuso su questa zona di qua più o meno potete vedere come si entra in questa strategia molto semplice c'è un bel ratio di vincita si utilizza in azioni io personalmente si può utilizzare in altri tipi di attivi però li utilizzo soltanto in azioni time frame di 5 minuti per fare trading intradiario veloce e poter fare dei bei profitti la andremo utilizzando più spesso nel nostro canale per farvela vedere un po' e farò un video più avanti di backtesting di 100 operazioni già riuscite o positive o negative così potete farvi un'idea del ratio di vincita che c'ha questa strategia spero vi sia piaciuto il video se avete qualche dubbio su questa strategia me lo commentate di sotto se la state utilizzando me lo commentate anche like se vi piace il video e non vi dimenticate di suscrivervi al canale che mi aiuta tantissimo dai moltissimi grazie un'altra volta e ci vediamo dopo ragazzi ciao